raga qua fa vedere mio allora qua sta tipo una skin che noi faremo tipo sasso carta forbice e chi vince la sciopera con questa skin ovviamente lo sciopatino questi soldi 7 atti fermano fermano vabbè e praticamente chi vince la sciopera con questa skin comunque c'è un po di soldi e mo andiamo vai sasso carta forbici e io vinto dovevo bevo il capicello sasso carta forbici cazzo ti ho battuto amico amico mio ok raga andiamo a scioppare andiamo a scioppare però ora te lo volevo a scioppare questo un pochino andiamo all'altra andiamo all'altro perché volevo prendere il capicello perché volevo fare il capicello andiamo a scioppare però prima di scioppare volevo chiedere a tutti voi ho sempre amato i miei gubac e non li ho mai voluto spendere quindi andiamo a spendere questi cazzi di gubac perché qua sta ok amici abbiamo scioppato la skin disturbatov festivo perché vuoi vedere la madre va bene raga comunque facete i stili allora teniamo il primo stile no no da qua da qua da qua predefinito da qua cor capicella poi diamo il secondo ok raga andiamo secondo stile no il primo il primo poi c'è il secondo secondo tipo una espressione militare però sempre natalizio con sempre rosso vabbè è vero ovviamente ma questa come operazione sabaglione stiamo là è proprio questa che è la più figa di tutti poi vorrei scioprire anche questo qua no 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 però no siamo di 550 bucks che se domani c'è tipo quella quella quelle moto con la campana con la campana tipo con la tab ce la scioppiamo e niente ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto noi ci becchiamo nel prossimo video nella prossima live bella ciao